tu resti sempre la migliore tra tutti noi certamente perché in fondo so di avere un buon margine di vantaggio ho visto dei tacchini venendo qui le parole del professor schuster mi colpirono parecchio durante la luna piena lui non è cambiato che ti dico cosa tutte ne vieni via con noi le faccio dal mio computer ma questa volta ho voluto fare diversamente